L'assessore regionale alle infrastrutture Luca Braia e il direttore generale del dipartimento Mario Cerverizzo hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri nei pressi del ponte ubicato sulla strada di collegamento Tinchi-Basentana in località Torreaccio dove diverse piene del Basento hanno determinato lo stralipamento del fiume rendendo anche necessaria la chiusura della strada. Il progetto redatto dalla regione Basilicata per conto del commissario straordinario delegato è uno stralcio del progetto di ripristino dell'ufficiosità idraulica del bacino del fiume Basento un intervento, ha detto l'assessore Braia, indispensabile per garantire un normale deflusso del corso d'acqua la pulizia della vegetazione dell'alveo permetterà di individuare nel tratto interessato le valvole eventualmente ostruite che saranno oggetto di apposito intervento di pulizia.